La nuovissima radio ricetrasmittente Baofeng 9 da 8 watt. Abbiamo la ricetrasmittente il cui corpo è rinforzato internamente in materiale metallico, una lega. Il montaggio dell'antenna è semplicissimo, avviene tramite avvitamento per cui si potrà anche sostituirla un domani. Per montare la batteria, e anche questa è un'operazione facilissima perché è a scorrimento, ha queste slitte che vengono agganciate da questi agganci dove poi viene inserita. Per toglierla si preme lateralmente questi due pulsantini. La radio ricetrasmittente Baofeng è dotata di bassetta per la ricarica o relativo carica batteria. L'acciuolo per agganciarla, per non perderla. Auricolare Auricolare del tipo tradizionale con pinzetta Auricolare del tipo tradizionale con la spugnettina anti sudore da mettere e pulsantino con l'altopal per parlare microfono. E ha anche una clip che va agganciata sul retro tramite queste due vitine che vedete. Si smontano le vitine e viene avvitata questa se desiderate utilizzarla con la clip. All'interno troviamo un manualino interamente scritto in italiano e inglese, manuale corposo di istruzioni in cui sono parecchie pagine di spiegazione. È molto solida, massiccia, c'è parsam che è parecchio resistente. Funziona molto bene ed è compatibile con gli altri tipi in commercio. Aggiungere il tipo tradizionale con 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 il tipo tradizionale con